L'esercizio sulla prospettiva, in una delle due quarte l'abbiamo già impostato o almeno l'abbiamo iniziato a vedere, vi faccio vedere quello che sarà il risultato aspettato ed è questo, foglio in verticale, fondamentalmente quello che si dovrà andare a disegnare sono tre cubi, due centimetri per due centimetri in pianta, mentre in alzato sono uno alto due centimetri, un altro altro quattro, un altro altro sei, un esercizio che non credo sia troppo complicato, faccio vedere pezzo pezzo quali sono i passaggi allora, se avete il foglio già squadrato, insomma, vi sarà più semplice, altrimenti fate la squadratura una volta fatta la squadratura dovrete disegnare una linea di terra, che poi è quella che coincide con la linea di orizzonte, quindi qua stiamo ancora sulla parte della pianta, per così dire il piano orizzontale, distante 10 centimetri dalla squadratura, dalla parte diciamo bassa della squadratura, che chiaramente andrà divisa a metà e disegnata un'ulteriore linea verticale, questa qua ci servirà durante tutto il disegno il secondo passaggio è quello di realizzare il cerchio di distanza, raggio 9 centimetri che individua due punti, D1 e D2 e soprattutto il centro lo chiamiamo 1 e il punto di vista che sarebbe il punto nel quale siamo collocati noi, dista 2 centimetri qui io mi sono portato avanti dicendovi anche di, magari il cerchio di distanza non è necessario disegnarlo, basta che sappiate che ci sono questi due punti, D1 e D1 e D2 che distano 9 centimetri dal centro e disegnate però la linea, cioè la distanza a 45 gradi usando la squadretta mettendola come più o meno vedete qui su questo foglio, magari aiutatevi con la squadratura o col foglio stesso e usate il foglio come binario successivamente dovrete cominciare a disegnare il primo dei tre quadrati qui stiamo ancora in pianta, non stiamo ancora in prospettiva che deve distare dal punto 1 in orizzontale 2 centimetri e in verticale 0,5 centimetri, vi ricordo che è un quadrato di 2 per 2 centimetri ok? spero sia chiara questa cosa, 2 centimetri in orizzontale verso sinistra 0,5 centimetri verso l'alto successivamente, dopo aver disegnato il primo cubo, disegnate il secondo che disterà mezzo centimetro dal primo, sempre 2 per 2 centimetri e successivamente il terzo cubo, vedete qui l'ho segnato anche piano orizzontale in realtà questo si può cancellare dopodiché, una volta disegnati i tre cubi la linea della distanza segnato di 1, di 2, 1 e 2 andate a disegnare la linea di terra a 10,5 centimetri dalla prima linea che avevate disegnato e successivamente a 7 centimetri di distanza dalla linea di terra a 7 centimetri di distanza disegnate la linea di orizzonte che è quella dalla quale proietteremo vi ricordate quella linea verticale che vi avevo fatto disegnare all'inizio? eccola qua, ce la ritroviamo qui l'avevo cancellata per chiarezza di disegno ma voi lasciatela sulla linea, diciamo, questa linea verticale sulla linea di terra e sulla linea di orizzonte individua i due punti che abbiamo anche qua il punto 2 che diciamo è dove siamo noi e il punto 1 in realtà è impropria questa cosa però vabbè, ci accontentiamo, facciamo finta che sia così ma sicuramente il punto 1 che sta qua ok? il punto 1 è quello di proiezione adesso le prospettive centrali significa che tutti i punti in verticale quindi lo sviluppo verticale converge verso il punto 1 mentre le linee orizzontali per sapere qual è la scansione spaziale convergeranno verso il punto di distanza e quindi l'altro passaggio sarà quello di riportare il punto D1 sulla linea di orizzonte successivamente cominciamo a proiettare innanzitutto proiettiamo i cubi o i quadrati in questo caso e qui ho messo i due punti A e B per comodità sulla linea di terra successivamente li proietteremo verso il punto 1 quindi li mandiamo in fuga per così dire successivamente, secondo altro passaggio proiettiamo parallelo a 45 gradi le linee di distanza ok? i punti quindi proiettiamo questo vertice qui sulla linea di terra che considero la linea d'orizzonte in questo caso che individuerà il punto io l'ho chiamato distanza cubo rosso 1 e l'altro vertice distanza cubo rosso 2 ok? spero che sia chiaro successivamente i punti di distanza di CR1 e di CR2 li proietto qui sulla linea di terra e li mando in fuga sul punto di distanza il mio cubo o il mio quadrato in questo caso si troverà all'intersezione tra le prime linee che ho proiettato e le seconde vedete? come lo spigolo diciamo che poi incrocia di CR2 me lo ritrovo qui sopra e lo spigolo che incrocia di CR1 me lo trovo qui ok? quindi questo è il primo quadrato il secondo farò la stessa cosa proietterò i punti di distanza distanza cubo verde 1 distanza cubo verde 2 li proietto sulla linea di terra li mando in fuga sul punto di 1 e individuo l'altro cubo e faccio così anche per il terzo non ve l'ho segnato così acceleriamo un po' ricordatevi che rispetto alla linea d'orizzonte questi 3 quadrati sono alto uno quello rosso 2 cm quello verde 4 cm quello marrone 6 cm dalla linea di terra non dovrete disegnare necessariamente questo però diciamo non li dovrete colorare necessariamente però vi aiuta così ci aiuta nel disegno a capire un po' le differenze voi fateli tutti in bianco e nero chiaramente che significa? significa che dalla linea di terra e sulla linea di terra io ve l'ho scritto qua ricordatevi che le misure si prendono sulla linea di terra sono reali cioè qui ci sono le misure reali man mano che qui ci spostiamo lungo questi due binari le misure si abberrano per effetto della prospettiva quindi si falsano quindi io qui prendo l'altezza di 2 cm sulla linea di terra dritta per dritta la proietto e poi dopo di che vado ad intersecare i punti del mio cubo vada se che le linee orizzontali sono orizzontali quindi dopo di che dovrò semplicemente riportarmi queste altezze qui le riporto anche da quest'altra parte e compongo il mio cubo faccio la stessa cosa con quello verde quindi il cubo verde che abbiamo detto si trova dietro il cubo rosso quindi sono queste due linee prendo 4 cm come misura la mando in fuga e poi lo sollevo tiro su le altezze 1, 2, 3, 4 stesso procedimento per quello marrone 6 cm e infine poiché queste saranno state fatte tutte con una matita 2H quindi tutte diciamo leggere comincio a definire quelle che sono le linee che vedo e le linee che invece rimangono nascoste questo è l'esercizio spero sia tutto chiaro buon lavoro spero sia tutto chiaro per l'esercizio spero sia tutto chiaro per l'esercizio